e io volevo iniziare questa nostra chiacchierata parlando proprio del vostro ultimo album appunto cinema e tu ovvero senza paura in latino volevo innanzitutto chiedervi come mai questo questo titolo e leggendo in giro ho sentito parlare di questo disco come di un disco di rinascita da cui la fenicia in copertina e se volete parlarci anche del significato che ha per voi da questo punto di vista il disco allora cinema tu nasce dopo circa un paio d'anni di pausa in seguito al fatto che il nostro bassista ha deciso di lasciare il gruppo e appunto cinema tu senza paura e come dici te la fenicia in copertina rappresenta un po detto in maniera breve la rinascita del gruppo e in seguito anche a una forte delusione delusione diciamo generale per come sono andate le cose e quindi simbolicamente insomma ci sembrava un'immagine molto adatta a quella situazione cinema e tu in realtà ti vorrei dare dei significati molto profondi ma in realtà essendo appassionati di alcol in generale ma anche di whisky siccome è presente la scritta sul Jameson che è una bevanda insomma che a noi ci aggrada molto e allora diciamo che abbiamo unito un po' il significato profondo a quello un po' più divertente che sarebbe quello del whisky insomma che beviamo e che ci sta soprattutto un po' con la domanda che volevo farvi dopo che riguarda un po' l'oi e lo skin l'ho detto in maniera un po' più ho fatto un giro di parole dicevo spesso si parla di voi degli ultimi come uno dei gruppi diciamo di punta più famosi più noti nell'ambito del giro oi street punk skin and punk che dir si voglia insomma io volevo chiedervi se da questo punto di vista voi vi sentite partenere a questa sottocultura e se sì cosa significa per voi appartenere a una sottocultura di questo tipo allora io parlo chiaramente cioè a titolo personale poi loro mi daranno magari una bastonata se dico qualcosa comunque allora a titolo personale ti dico ma penso che condivideranno anche loro che noi siamo nati e cresciuti in questi ambienti da da paesi di pochi abitanti siamo sempre stati affezionati amanti questa sottocultura qua che che per noi comunque era non faceva troppi sottospecismi nel senso che eravamo pochi e ognuno di noi ha la sua personale visione del punk c'era lo skinhead c'era il punk c'era insomma vari sì c'erano l'arcore kids che insomma erano più concentrati sulla questione hardcore anche politicamente magari erano più anarchoidi anarchici rispetto a comunque siamo stati sempre uniti su questo frangente quindi sì noi nonostante anche parlando strettamente proprio del nostro genere musicale abbiamo avuto chiaramente delle trasformazioni rispetto al 2008 il primo disco era un disco infatti si chiama anche si è stato chiamato street punk proprio perché e voliamo ricarcare la nostra radice insomma sonora quel disco ha subito chiaramente le trasformazioni però tuttora almeno per quanto mi riguarda ma la pensano come loro ci sentiamo comunque di appartenere a quello che è sempre stato dall'inizio alla sottocultura in genere che comunque parte dal punk questa parola gigante attraversa tutte le sottospecie diciamo del punk questo è cinema è tu dicevamo prima compiuto ormai un anno anche abbondante credo e volevo chiedervi in generale dopo più di un anno dall'uscita del disco come è stato recepito dai fani insomma dagli appassionati e quali sono a questo punto secondo voi i prossimi passi della band per il futuro il disco è stato sicuramente recepito bene sicuramente in qualche modo una cosa che ci ha stupito è che i pezzi del disco nuovo hanno live a un certo punto abbiamo visto che iniziavano a funzionare a livello di risposta del pubblico più di quelli vecchi e storici dei vecchi dischi no vuoi anche per sicuramente l'esposizione mediatica che ha avuto la serie strappare lungo i bordi dove c'era un battito ancora vuoi perché secondo non anche secondo noi anche un buon disco insomma è uscito un buon momento per il punk in generale è stato recepito un po come un disco di ritorno alle origini dal punto di vista sonoro nel senso che riprende un po le sonorità del solito un posto qualunque che anche per i nostri fan diciamo un po più della prima ora era il disco un po più simbolo no mentre gli ultimi dischi tre volte dieci e anime corsari erano un po più verso il rock un po più tristi come attitudine non lo so più lenti forse anche e niente quindi il disco è andato bene prossime sicuramente è arrivato il momento insomma che per quanto riguarda il futuro facciamo qualche live meno e ci rimettiamo un po in sala prove a rimetterci sui pezzi nuovi insomma su qualche pezzo nuovo sicuramente se sentiamo questo bisogno insomma ci avviciniamo un po alla conclusione di questa nostra chiacchierata e volevo farvi una domanda che con la quale cerchiamo di accumulare tutte le interviste che facciamo alle bende che si esibiscono sul nostro palco che riguarda il grande tema dell'indipendenza in ambito musicale artistico eccetera eccetera e volevo un po declinarla nel vostro rapporto diciamo con l'etichetta el nation records e time to kill records con cui avete pubblicato gli ultimi dischi e in particolare per quel che riguarda el nation records che è un'etichetta discografica è un negozio fisico a roma è anche una casa editrice di cui abbiamo svariati libri qua nella nostra libreria che è specializzata appunto in street punk skinhead eccetera eccetera ma soprattutto da quel che so da lontano insomma è un punto di riferimento anche per le sottoculture romane e volevo chiedervi qual è il vostro rapporto con questa realtà e se ce ne volete parlare insomma a parte sì ce l'ho tatuato il buon roberto mi dispiace per la mia compagna ogni volta facciamo l'amore insomma se deve vedere sta cosa però vabbè a parte questo roberto è un diciamo è una persona che ci ha cresciuto praticamente nel senso lui c'è questo c'è questo negozio a roma dove noi andavamo anche semplicemente per prendersi una birra per ritrovarci e la collaborazione con roberto credo sia nata dal secondo disco in poi se non sbaglio da storia un posto qualunque oltre all'amicizia che ci lega poi chiaramente con la collaborazione è nata un'amicizia sempre più profonda e non c'è i soldi parte roberto è un amico quindi non so pure quando fa delle cazzate comunque lo perdoniamo e ne fa tante speriamo insomma avete sti intervisti a tanto kill è una collaborazione fresca perché insomma si è proposto lui e rico di darci una mano in questa nuova insomma con l'ultimo disco un cinema e tu e abbiamo collaborato adesso non ci sbilanciamo perché poi noi vediamo come va tutto quanto nel senso che a volte c'è ci piacerebbe se panno dire a volte piacerebbe mannaffanculo tutti e c'è tipo ritornarsi alla prova e registrarsi e non ti dico venne i cd in spiaggia ma insomma poco ci manca ecco ma e quindi posso farti un altro far farvi un'altra domanda che non era prevista ma mi è venuta in mente adesso ma a questo punto no essendo noi in un'epoca nella quale potenzialmente tutti noi ci potremmo autoregistrare a tutto produrre dal vostro punto di vista di artisti legati a un'etichetta indipendente qual è può essere diciamo il qualcosa che in più che ti può dare legarsi a un'etichetta di questo tipo anche essere legati a una sottocultura alla sottocultura di cui parlavamo prima probabilmente in parte risposto morizio prima no parlando di roberto nel senso che sicuramente c'è quello che roberto chiaramente è collaboratore tra virgolette di lungo corso ma non è una collaborazione ma è un'amicizia che si stringe e che va avanti non abbiamo mai avuto a che ridire su cose tipo soldi cioè nel senso è una roba che nasce un po spontanea cioè ti prendi e poi in qualche modo fai un percorso insieme e secondo noi questo è il senso di tutto cioè nel senso il punk rock l'arcore noi hanno ragione di esistere e perché sono una scena fatta di molteplici realtà che in qualche modo collaborano ed è quella la principale cosa secondo noi che 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 la differenza la principale attitudine che la differenza da tante altre scene rock indie dove ognuno diciamo in qualche modo un gruppo vive più un individualismo per noi la scena è tutto cioè nel senso veniamo da là e la vogliamo restare anche parlando di roberto in qualche modo delle persone che come lui che e che che rappresentano quel modo di vedere la musica e l'aggregazione insomma